Adesso torniamo a Pisa con un atto tra i giorni che è stata organizzata per ricordare il fumettista Tuono Pettinato. Si intitola i giorni di Tuono in programma dal 10 al 12 giugno a Pisa ed è la prima edizione del festival che nasce per ricordare la figura del fumettista Tuono Pettinato. Il festival è stato voluto ed organizzato dalla Fondazione Tuono Pettinato in collaborazione con il Comune di Pisa e si svolgerà in vari luoghi della città. In questi tre giorni è stato organizzato un ricco calendario di appuntamenti e sono previste alcune importanti iniziative fra cui la grande mostra tradizionale. La fondazione è insieme al Comune di Pisa, insieme all'azionale, insieme a tanti altri che erano amici di Andrea e sono ancora amici di Andrea. Grazie.